Lorenzo Crespi L'attore ha lanciato sui social un appello disperato circa le sue condizioni di salute, situazione poi spiegata a domenica live, questa volta ha attaccato una delle sopopera più popolari d'Italia, Un Posto al Sole. L'attore ha gettato accuse molto pesanti sul programma di Rai 3, sostenendo che alle spalle vi sia una gestione mafiosa. Queste le parole usate da Crespi nel tweet incriminato, poi cancellato ma salvato da Caffeina Magazine.it screenshot di Caffeina Magazine.it leggi, domenica live, Lorenzo Crespi, sono malato, non povero. Mi hanno truffato, Lorenzo Crespi fa marcia indietro? Dopo aver rimosso il messaggio l'attore ha scritto altri tweet cercando di correggere il tiro e spiegando di essersi fatto portavoce di presunte. Testimonianze raccolte sul web, non denunciate, non ve la prendete con me, si è difeso, annunciando inoltre di volersi allontanare dai social e pensare a risolvere i propri problemi. Testimonianze